Sette gol, due rigori e emozioni a non finire al Caprarese. Spoltore e Vasto Marina danno vita a una gara intensa. Si parte subito con i padroni di casa al sesto minuto. Errore in uscita della Bagigalupo. Ne approfitta Servallegra per Spalvoli. Conclusione a botta sicura murata dalla difesa. Rispondono gli ospiti. Contropiede di Micidiale Diletto che a campo aperto se ne va. Fa tutto bene tranne la conclusione. Pallonetto che si perde sul fondo. 300 secondi di spettacolo puro. Al sedicesimo lo spoltore passa. Punizione di Spalvoli. Respinge. Cevic ne approfitta a Servallegra che fa 1-0. Ma il vantaggio dura poco. Diciottesimo minuto. De Vizia sulla fascia destra. Metta al centro un bel traversone per Letto che anticipa tutti e fa 1-1. Ancora 60 secondi e questa volta il numero 10 spoltorese che entra in tutte le azioni da gol dei suoi. Dai 25 metri fa partire una sassata che trafigge il portiere ospite. Traversone di Fieroni che taglia in due la difesa di casa. Mi approfitta Letto che da due passi fa 2-2. Ma al 35esimo arriva il 3-2. Ancora una volta lo scatenato Spalvoli batte a rete. Il portiere respinge. Ma è sui piedi di Planamente. Il numero 11 da due passi fa 3-2. Il tecnico ospite Borrelli dice qualcosa di troppo. Il guardaline Abazzai segnala tutto al suo collega Battistini che allontana il tecnico ospite. Con le immagini montate da Flavio Forcellese passiamo alla ripresa. Si riparte subito con lo spoltore in avanti. Sesto minuto. Petito in area di rigore. Viene atterrato questa volta il direttore di gara. Fischia il penalti dal dischetto. Lo stesso numero 9 fa 4-2. Primo centro stagionale per Petito. Ancora Petito pericoloso. Questa volta innesca Selva Allegra con Clasino a botta sicura. Cebic con la gamba. Sventa la minaccia. Il vasto marina non si arrende. Sedicesimo minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla tre quarti. Trilione sforbiciata spettacolare. Che si perde al lato di pochissimo. Al ventunesimo Petito alla palla del K.O. Ma l'estremo difensore ospite nuovamente si oppone alla conclusione salvi suoi. Vasto marina riapre la gara al minuto 23. Fieroni viene abbattuto da Palena. Cartellino giallo per il portiere che era in diffide e verrà squalificato per la prossima gara. Lo stesso centro avanti ospite dal dischetto. Fa 4 a 3. Minuto 37. Ci prova nuovamente lo spoltore. Conestarino è entrato al centro. Per Belli l'incornata perfetta. Sfiora l'incrocio dei pali. E la gara si chiude praticamente qui. Vince lo spoltore. 4 a 3. Mister Morelli in sostituzione del Gallo oggi squalificato. Bellissima vittoria. Partita al Gartio Palmo. 4 a 3. Emozioni a non finire. Tutto sommato una prestazione positiva dello spoltore. Forse qualcosina da registrare in fase difensiva. Sì. Ormai sono già un paio di partite. Usciamo con risultati pirotecnici. Anche domenica scorsa. Io sono felicissimo per i ragazzi. Dopo due sconfitte. E così ci voleva una bella prestazione. Una gara equilibrata. Forse al secondo tempo abbiamo avuto qualche palla per chiuderla prima. Sicuramente dovremmo lavorare ancora sulla fase difensiva. Ti è sentito molto oggi la presenza di Petito lì davanti? Sì. Mario è giocatore di categoria. È giocatore che fa reparto da sole. Essendo una squadra abbastanza giovane. Ovviamente un giocatore del genere fa comodo. E si è visto insomma. Mister Borrelli. 4-3 per la spoltore. Partita sicuramente emozionante. Però lei forse non l'ha tanto digerita. Sia per il risultato. Per l'espulsione. E anche per qualche decisione che l'ha lasciata con la mare in bocca. Hai riassunto tu. Quindi è inutile che aggiunga dell'altro. Anche perché aggiungere dell'altro significherebbe per piangersi addosso. Ci sta. Nelle gare di calcio a volte gli episodi determinano i risultati. È chiaro. È innegabile che mi dispiace aver perso così. Però nell'ottica della gestione della gara in un anno queste gare servono anche molto a far crescere soprattutto i ragazzi. Credo abbiamo dato prova di grande gagliardia. Di grande cuore. Naturalmente quando si piglia gol oggettivamente si fanno anche degli errori. Però diciamo che tecnicamente bisogna dire brava a tutte e due le squadre. Perché alla fine se si riesce a fare una gara emozionante anche sotto questo aspetto il merito è sicuramente anche di tutte e due le squadre. Grazie.